L'autunno è finito da qualche mese, ma questo non sembrerebbe dalla situazione che è presente nel parco a fianco della Biblioteca San Giovanni. Migliaia di foglie cadute giacono al suolo da troppo tempo e per questo ci è arrivata una segnalazione di un cittadino, residente in uno degli appartamenti accanto alla Biblioteca di Via Passeri, che si è lamentato dello stato di incuria che ogni giorno vede sotto ai suoi occhi. Che vengono a pulire perché qui è un disastro, le foglie anche quando tira il vento, quando tira il vento vanno tutte nelle vie, le mitrofe qui è un macello, un casino, anche la gente si lamenta di fuori, dopo la gente che arriva tutte le foglie lì. Il problema è che qui non aiuta nessuno, io da per me non faccio più niente, da oggi in poi, perché è inutile che pulisco qui il pavimento della Biblioteca, che lo pulisco tre o quattro volte al mese e poi non portano via le foglie e se portano via le foglie va bene, se non portano via le foglie il vento le riporta tutte qui, dopo mezz'ora è un lavoro fatto per se sa niente, capito? Durante il giorno che passi qui il vento alza le foglie, guardi anche lì per terra, le cose piccioni, tutto un macello qui. Anche, le ho detto, ci sono i topi, sono 30 centimetri lunghi, la notte è capitato un paio di volte che li ho trovati davanti al portone, e non so se mettono le esche, qui dovrebbero venire, io non li ho mai visti, è venuto una volta, non li ho più visti a mettere le esche. Quindi lei cosa chiede, al Comune o all'Aspes? Che li facciano venire a mettere le esche, a controllare continuamente, perché è inutile che teniamo quelle trappole lì che non c'è niente dentro. Invece per le foglie? Per le foglie le devono venire a portare via, almeno, almeno, una volta gli due mesi, adesso sono 4-5 mesi, da quando ho cominciato a cadere le foglie, vedi gli alberi che ci sono qui, qui in macello, ogni mese, due mesi, al massimo, devono venire a tirare le vie, sono venuti una volta sola da settembre. Lei ha già chiamato, contattato qualcuno per farle rimuovere? No, ho cercato di contattarli, passano da un numero all'altro che io sono stanco di telefonare. E una problematica di questo parco anche non solo durante il giorno per quanto riguarda le foglie, ma anche per il degrado che può esserci durante la sera? Vengono a dormire, due, tre, qui sotto all'oggiato, non è che danno fastidio, però non è un grande coro per la città. E qui invece c'è la gente che dorme, vanno a urinare, a fare altre robe dietro ai cespugli, ho trovato anche discussioni una volta. E le hanno anche dato fastidio? No, personalmente no, personalmente no, mi ha dato fastidio una volta una persona che era entrata senza permesso, gliel'ho fatto presente, ormai mi butta sotto con la macchina, questo glielo giuro, non è una bugia. Ha cercato di buttarmi sotto con la macchina, ho detto, a te non c'hai il permesso, io non trovavo il posto per la macchina. Io sono passato dietro, quando sono passato dietro mi ha fatto marci indietro, poi ha frenato di scatto, ma se le scivola il piede dal freno mi schianta le gambe.